Ci eravamo visti circa un anno fa, prima delle elezioni. Adesso c'è un nuovo sindaco, Calogero Martello. Ma come vedi Porta Empedocle e qual è la tua impressione? La Porta Empedocle ha necessità di recuperare un po' di tempo perduto. Questi anni sono stati anni complicati, penso, per la città. Sono stati anni difficili. Mi pare che si sia persa la bussola della prospettiva. E questo è grave, quando tu trovi nella gente questa condizione di disamoramento rispetto alla cosa collettiva, alla città. La città diceva, credo fosse Platone, un po' l'anima nostra. Bisogna tenere in ordine la propria anima, così come tenere in ordine la propria città e viceversa. Io credo che ci sono stati anni che io ho anche vissuto, ho vissuto da cittadino, talvolta li ho vissuto anche da amministratore, dove questa consapevolezza della cosa pubblica e della voglia di riscatto c'era, c'era tutta. E questa credo che sia l'elemento, la chiave di vantaggio che possono avere le città per andare avanti a recuperare terreno rispetto ad altre realtà. Quando viene meno questo, e quindi la coscienza collettiva in qualche modo si appanna, le città fanno faticare ad andare avanti. E allora riprendiamo un attimo le idee dell'ultima volta. Come si riprende quest'anima? Come si prende cura di quest'anima e come la si rilancia? Beh, intanto la cura la si prende, diceva qualcuno, che le civiltà nascono non dal nulla, ma nascono dentro, prima della soglia di casa, cioè non fuori dalla soglia di casa, che nascono dentro le nostre case e poi diventano coscienza collettiva. E credo che questo sia qualcosa di fondamentale, che per costruirlo devi avere pazienza, devono metterci esempio non solo i cittadini, ma anche chi amministra le città. E quindi da questo punto di vista io non posso che fare gli auguri a quelli che amministrano in questo momento la nostra città, perché in qualche modo possano investire se stessi nella esigenza di rinascita che è grandemente avvertita. Ci sono segni in controtendenza nella città. Da un lato una condizione comatosa, di difficoltà, cioè non è la Porta Empedocle che sostanzialmente conoscevamo, città rivierasca, città a vocazione mediterranea, vivace, attiva. Adesso i nostri ragazzi vanno altrove. Io ricordo che venivano a Porta Empedocle, i ragazzi adesso vanno ad Agrigento, il fine settimana i nostri ragazzi, gli Empedoclini, vanno nell'altro pezzo di Agrigento, perché io ritengo Porta Empedocle, Agrigento, come ti ho sempre detto, una realtà unica dal punto di vista sociale, culturale, vorrei dire, e doppia invece dal punto di vista amministrativo. è l'unico caso in Sicilia di città, capoluogo, che è accanto al mare, che non ha il suo porto. Perché? Perché nacque Porta Empedocle con la sua realtà. A proposito di Porto e Agrigento, il porto di Porta Empedocle e del suo capoluogo, ma anche di una miriade di altri paesi dell'Agrigentino, che teoricamente dovrebbero confluire proprio nel suo porto. Per farciò chiaramente servono le infrastrutture, che ad oggi ancora non ci sono. Ma tu pori un tema che è grande, che però è assolutamente cogente, cioè l'idea che le programmazioni territoriali, urbanistiche, e quindi evidentemente anche quelle di natura di matrice economica, le strategie di sviluppo su un territorio, non possono che essere strategie di insieme, cioè lo sviluppo non te lo costruisci solo attraverso un'amministrazione, un consiglio comunale di una città, ma lo fai in un sistema che deve essere inevitabilmente di aria vasta. E per fare questo, intanto bisogna partire dal fatto che ciò che erano i vecchi piani regolatori generali, e quindi i nuovi sistemi di programmazione urbanistica, non possono che essere dei sistemi dialoganti, tra comuni che sono nell'intorno. Noi ad Agrigento iniziamo questo sviluppo, diciamo, di rapporto, in termini territoriali, facendo in modo che il nuovo PRG, per esempio, non fosse figlio di un sindaco, di un'amministrazione, di una giunta, ma fosse figlio di un territorio. E i territori contigui si parlassero, proprio in ragione di una prospettiva strategica che fosse comune. Anzi, mi auguro che ad Agrigento, da questo punto di vista, non si torni indietro, anche se vedo qualche segnale in controtendenza. Sostanzialmente bisogna pianificare. Bisogna pianificare e farlo non solo dentro lo stretto recinto, ma tu noti colui che arriva da fuori, non tu né io che ci siamo nati tra Agrigento e Porta Empedocle, chi arriva da fuori, vede una soluzione di continuità tra Porta Empedocle e Agrigento? No, cioè con Monserrato e Villaseta, Anche quelle ponte, voglio dire, sembra proprio un simbolo. Siamo diventati una città unica nella sostanza. Poi il tema che obiettivamente io da tempo pongo è quello che la realtà non può che essere unica. Non eliminando il gonfalone, quindi togliendo la municipalità a Porta Empedocle, nessuno pensa a questo, ma certamente questi due comuni non possono che essere dialoganti. Noi abbiamo tentato dal punto di vista della programmazione, è stato difficoltoso invece il dialogo con la realtà in un certo tempo, però questa idea di programmazione deve di necessità esserci. Cioè lo sviluppo non lo inventa un programma elettorale di tizio o di caio, lo fai se sei nelle condizioni di far ragionare i territori. A proposito di far ragionare, il porto, l'autorità di sistema portuale e Porto Empedocle, anche lì mi pare che ci sia una carenza di comunicazione. Guarda, la carenza di comunicazione sotto questo profilo credo lo sia grande. Basta pensare a quello che si sta consumando in questi mesi. Si è andato a fare un nuovo progetto di stazione marittima, tu sai, ricorderai che io posi la questione sin dal 2007, e giungemmo ad ottenere finanziamento, giungemmo ad essere con gara d'appalto celebrata, poi non si sa come, non fu realizzata, quel progetto non fu realizzata. Quando si cominciò a pubblicizzare questo nuovo progetto che è in corso, che sostanzialmente che cosa fa? Hai visto che copre una parte del banchinamento, è una cosa sulla quale noi sbattemmo fortemente con una polemica furiosa, e che poi ci diede ragione perché la vincemmo sul campo, proponendo un progetto che non doveva creare nuova cubatura sulla banchina del porto, e soprattutto non ostruire la vista mare. Quindi recupero spazio nella banchina e non occludo vista mare. Si sta realizzando una stazione marittima che è nuova cubatura totalmente, mentre accanto c'è un immobile fatiscente, lasciato fatiscente. Allora queste sono le schizofrenie di quando, io penso, non si ragioni in termini prospettici. Quando sollevai la questione, ero sindaco di Agrigento, e ho visto che il responsabile dell'autorità d'ambito aveva anche una certa retrosia a parlarmi, perché evidentemente a Porta Empedocle c'era un altro sindaco. Ora, io penso che scelte di questo tenore devono vedere le realtà a parlarsi, perché poi i danni che è la presenza di alcuni, oggi posso essere io, domani può essere tizio, lasciamo su un territorio, sono incommensurabili, e non li recuperi più. O come vedo molte questioni che in questo momento affliggono la Porta Empedocle e che furono un cavallo di battaglia al tempo. Gli spazi pubblici, cioè qui si è tornati ad occupare spazi pubblici, non si capisce secondo quale regole, in maniera abusiva, è ripartita l'idea di chi piglia un turco e suo, è accaduto negli ultimi cinque anni, adesso io mi auguro che i nuovi amministratori prendano consapevolezza di quello che sta accadendo e ne facciano un loro cavallo di battaglia. So che hanno delle difficoltà tecnico-amministrative, perché hanno trovato un comune che è fermo ai bilanci del 2016, quindi queste sono delle gravi difficoltà, ma al di là del fatto contabile c'è un dato amministrativo che possono assolutamente disimpegnare. Porta Empedocle in questi ultimi anni ha perso tantissimi impiegati comunali e soprattutto dirigenti. Come hai detto tu è in una condizione economica assolutamente precaria, totalmente quasi devastata e allora il punto è da dove si ricomincia? Ma si ricomincia dalla buona volontà e le buone volontà ci sono. C'è uno Stato che per alcuni viene visto come comatoso, per altri, non so se sono più pessimisti o realisti, viene visto di encefalogramma piatto, però girando per le attività commerciali il pessimismo c'è ed è profondo. Io penso che si debba iniziare proprio da lì, cioè da questa voglia di tanti giovani che hanno messo su delle aziende di famiglia, il B&B, il pub, le pizzerie, per fare in modo che Porta Empedocle torni ad essere quella che un po' è stata nelle sue corde, nella sua vocazione e che per certi periodi ha saputo esercitare con successo. A questi giovani che hanno avuto coraggio di investire, io guardo con grande attenzione perché penso che possano costituire quell'embrione di gambe su cui la città può cominciare, potrebbe cominciare a muovere qualche passo. a muovere qualche passo. a muovere qualche passo. a muovere qualche passo.